Cominciamo ad analizzare un po' questa partita per poi aprire questa pagina sul Perugia. Insomma, tante novità. Abbiamo detto che la partita ha lasciato qualche perplessità. Come hai visto, nelle zone del campo, cosa ti ha lasciato più sorpreso di questa partita? Cosa non ti è piaciuto? Innanzitutto il cambio di modulo è stato importante e forse anche inaspettato, Francesco. Soprattutto l'assenza di un giocatore in mezzo al campo come Verre, che comunque non stava passando un momento eccezionale, però è sicuramente mancata la squadra. Infatti i cambi Verre e soprattutto Melchiorri hanno subito dato comunque un cambio di marcia, non tanto nel gioco quanto nei risultati, perché il gol è frutto di un 1-2 di questi giocatori. E poi, insomma, l'aspetto che un po' mi ha messo dei dubbi in testa è anche il fatto di vedere un Perugia a giocare a 5 a centro campo proprio nel momento che è stata fatta una scelta anche societaria differente, che è quella di vendere e di mandare in pressa alcuni giocatori come Mustacchio, che abbiamo proprio trovato di fronte e che si è sicuramente fatto notare per ottime cavalcate proprio sulle fasce. In questo modulo ci sarebbe stato bene? L'anno scorso fece molto bene nel centro campo a 5, quindi sì, assolutamente sì. Daniele Orlandi, dove vuoi mettere l'accento? Cosa ti ha lasciato più perplesso? Cosa magari non avresti fatto? Qual è la tua opinione? È facile dire adesso che non l'avrei fatto. Di fatto Nesta, almeno se non giustificarlo, spiegarlo, perché lui sapeva di incontrare una squadra come il Carpi, che è maestra perlomeno nel non far giocare e che proprio è l'anti-Perugia da questo punto di vista, perché se c'è una squadra che può fronteggiare il gioco del Perugia in maniera efficace è quella di Castori o le squadre di Castori, se vogliamo generalizzare. Quindi lui ha provato a cambiare il modulo cercando in qualche maniera di stanare il Carpi, che da par solo doveva vincere perché la situazione classifica non è facile. E ha detto se io gioco con il mio modo abituale faccio il gioco del Carpi, perché il Carpi l'avrebbe aspettato e il Perugia avrebbe tentato i contropiedi. Io gli intaso la metà campo, mi difendo più dietro, quindi non gioco alto come zona difensiva e per fare questo gioco ha poi scelto gli interpreti che ha scelto Mosca, beh c'erano anche dell'assenza chiaramente, quindi le scelte sono state anche in parte obbligate. Un po' forzate, in parte forzate, certo. In parte obbligate. Il gioco però non ha funzionato essenzialmente per due motivi. Intanto perché a sinistra Felicioli doveva essere una diga e si è rotta subito la diga e quindi il Carpi ha potuto giocare tutti i traversoni soprattutto dalla parte sua e lì hanno retto bene i tre centrali, ma certo hanno retto bene a volte anche con un pizzico di fortuna e con qualche errore degli attaccanti carpigiani. E poi perché a metà campo dove dovevamo avere la superiorità numerica di fatto eravamo sempre in inferiorità numerica perché il gioco, le seconde palle, i contrasti, la grande fisicità dei carpigiani ci ha messo in difficoltà, noi non siamo mai riusciti a ripartire con più di tre passaggi consecutivi e soprattutto abbiamo a un certo punto dovuto affidarci al lancio lungo, alla spera in Dio e questo davanti trovava Sadik che ne ha azzeccate poche, tanto per essere ufemistici Han che era nella morsa dei Marcantoni del Carpi e quindi i nostri terminali davanti sono stati praticamente neutralizzati finché sono stati in campo tutti e due. Questa è stata un po' la spiegazione, cioè il gioco che doveva funzionare non ha funzionato e quindi ci siamo trovati in ambascia, in difficoltà, nel secondo tempo in grosse difficoltà e abbiamo rischiato parecchio, poi è venuto quel gol, ma prima non dobbiamo dimenticare che abbiamo davvero rischiato troppo perché le palle arrivano da tutte le parti, palle alte e devo dire una cosa che non ho notato in nessuno, ma secondo me anche Gabriel non è che abbia brillato molto perché molte palle nell'area piccola lui non è mai uscito. Non è mai uscito. Beh Stefano tu cosa vuoi aggiungere a questa... Io l'analisi di Orlandi mi ci ritrovo perché secondo me Nesta ha fatto un bagno di umiltà ha dato una giusta valutazione alle caratteristiche del Perugia, alla qualità e alla forza del Perugia e non è partito con l'idea che andando a capi con una squadra di bassa classifica io faccio la partita e provo a portare via i tre punti. Io ci ha fatto un ragionamento umile, io invece l'aspetto, vediamo che cosa riescono a fare. Certo è stato un aspettare, un subire più che un aspettare perché il Perugia ha subito una vera e propria lezione di gioco, di pressing, di determinazione che ha lasciato abbastanza perplesso rispetto alla qualità dei nostri colori. Soltanto che quando ci sono i giocatori di qualità poi basta anche una palla che... Ecco vediamo, tac! Questa ragazzi è una giocata di qualità che ha permesso a portare via tre punti. Certo, succede una volta che vince la partita così, eh? Otto, l'altra le pareggi e otto le perdi, ecco insomma per capirsi. La cosa che ci consola è che Nesta ha detto che non gli piace questo schema e non piace nemmeno ai giocatori, quindi... Non ti lo vorrei proporre. Anche perché io sono dell'opinione che cambiare gli schemi perché uno cambia mentalità, cambia, sceglie i giocatori prima che servono, ha un senso. Cambiare gli schemi per una partita perché bisogna contrastare la penultima in classifica che c'è un gioco che se no ci frega in contropiede, io ho le mie riserve su questa scelta. E infatti quando è iniziata la partita io credo che tutti noi siamo rimasti sorpresi dal tipo di formazione che è stata messa in campo. Era una formazione che non aveva prospettive perché se tu ti vuoi difendere poi non c'hai Kingsley che ribalta sempre l'azione e non c'hai un centrocampista che è in grado di fare i lanci e non c'hai un regista davanti che fa gioco e che si inserisce, dove vai? E infatti la scelta fino al 91esimo era quasi sciagurata, nel senso che il Perugia aveva subito una squadra modesta che Stefano, gran gioco non l'ha fatto vedere, scusate, lezioni di gioco, quale gioco? Sono prescini, cioè la quantità... Quale gioco, insomma voglio dire... Carpi non parliamo di gioco perché se no diciamo sciocchezze. Quindi era fino al 91esimo una prova fallimentare e guarda c'è un'immagine che ho rivisto la faccia di Goretti quando alla fine ha fatto una faccia veramente significativa come dire, mamma mia, come ci è andata bene incredibile, quella è la faccia che mi sembrava di Roberto però ecco, Nesta è onesto, non si è nascosto dietro niente È sempre onesto No, ma è positivo in questo, molto positivo e credo che non ripeterà questa... Adesso che il fatto che non c'è un terzino in grado di marcare e che uno cambia le formazioni in moduli perché nel Perugia non c'è un terzino sinistro in grado di difendere e questo mi sembra un pochino esagerato e preoccupante la cosa perché non è che tu per un giocatore cambi tutto un assetto e diciamo che questa esperienza negativa è stata molto utile perché sei tornato con tre punti importanti è una giustizia della sorte perché è una giustizia della sorte questa di cui ho potuto vantarsi il Perugia dopo Carpi perché la traversa che ha impedito il gol sono d'accordo sulla storia dei palloni troppi palloni nell'area piccola che hanno potuto colpire i giocatori gli attaccanti del Carpi con Gabriel che oramai l'abbiamo visto non esce e quindi non esce e sulle mischie non esce la spera che qualcuno la mandi fuori no, è una scelta voglio dire hanno fatto colpire è andata bene perché stavolta pur concedendo colpi di testa i difensori sono svignata è andata bene con l'arbitraggio perché l'arbitraggio lo dobbiamo dire stavolta non ci ha penalizzati e siamo buoni ecco tutti questi fattori messi insieme e considerati dopo tre punti presi in trasferta diventano positivi nel senso che tu rifletti su queste cose non cerchi di farle più e quindi vai avanti adesso domenica sabato c'è una partita nella quale bisogna giocare un altro calcio tornare a giocare il calcio che è più rischioso indubbiamente ma è un calcio che c'è una logica quello che il Perugia ha fatto nelle partite anche che ha perso in quell'occasione che ha fatto vedere anche un buon gioco io sono abbastanza non sono d'accordo con chi dice che il calcio giocato così ti fa prendere i gol perché i gol che abbiamo presi sono la conseguenza di disattenzioni difensive di singoli sono mancate uscite salti dopo l'avversario è vero che fanno i cross alle fasce è vero ma il calcio se non fai i cross alle fasce entro in mezzo qualcuno la butta su la palla disattenzione di giocatori infatti il giovane Sgarbi che è entrato concentratissimo perché era la sua grande occasione è il debutto mi sembra è certo non ha sbagliato niente perché era concentrato quindi il cambio di passo del Perugia non è il ritorno al 3-5-2 perché c'ha più sostanza difensiva ma è il ritorno alla concentrazione massima di quelli che stanno in campo in questo caso il Perugia rispetto al Palermo ha giocato meglio il Perugia non ce lo dimentichiamo hanno sbagliato tanto i giocatori del Perugia sia in difesa che in attacco quindi la strada è quella di prima non è quella di Carpi i punti dovrebbero essere di Carpi e speriamo che l'attenzione di giocatori in campo l'attenzione alla determinazione di chi sta davanti e di chi sta dietro porti il Perugia a raccogliere quello che merita divertendo anche un pochino Daniele sei d'accordo in questa equazione che si deve allineare insomma sarebbe il massimo avere tutto il gioco e le attenzioni perché è vero che molti punti se ne sono andati per cali di concentrazione che sono anche spiegabili se non giustificabili con l'età di molti con l'età giovani di molti ragazzi ricordiamo la media di 23 anni ma forse all'inizio anche con una come dire con una non sufficiente attenzione che Nesta metteva su queste nello stimolare i suoi perché forse Nesta è abituata a un'idea di calcio nella quale tutti sanno cosa devono fare perché è calcio di altissimi livelli poi ha capito anche lui che invece deve essere un fondamentale negli allenamenti nella preparazione delle partite martellare i suoi su questo oddio i risultati non è che siano sempre arrivati mi ricordo poche partite nelle quali Perugia praticamente ha rischiato niente o addirittura non ha subito nulla forse quella di Ascoli quella ecco però questo è è certo che come diceva Remo Gasperini si torna da sabato si torna all'antico cioè si deve tornare all'antico perché se non costruisci se non riesci a fare il tuo gioco sì questa l'hai vinta Carpi ma certo non è sempre domenica grazie a me grazie a tutti